Sono Samuel Lindiner, attore e socio fondatore della Calama Film, una società di produzione cinematografica nata alla fine del 2017. I miei due soci sono Ferdinando Gattuccio e Fabrizio Lamonica. Abbiamo prodotto diversi cortometraggi, è un lungometraggio che è andato nelle sale cinematografiche palermitane proprio all'inizio del 2018 dal titolo Work and the Beast, un film fantasy, in Sicilia difficilmente si è visto un prodotto simile. Il mio unico lavoro è stato un numero privato al momento, è un cortometraggio thriller che abbiamo girato nel 2017 con Giuseppe Mangano, Gisella Pecoraro e Ginevra Messina. Ho interpretato anche io la parte di protagonista, è un corto che ho scritto e diretto. Ho voluto comunicare l'attenzione, il senso di inquietudine, credo proprio di esserci riuscito grazie alla gente che ha visionato questo cortometraggio e mi ha detto proprio di essersi ritrovata in quello stato di inquietudine quando ha visto il mio prodotto. Attualmente ho in mente di girare un altro cortometraggio che si chiama Tieni Dure, è un cortometraggio brillante a tratti anche comico, non voglio svelare molto, presto lo vedrete nei vari canali internet. Un ringraziamento particolare a Futura Vision che mi ha dato la possibilità di mostrare il mio prodotto e di presentarmi a tutti voi. Grazie. 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 Grazie.